In occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla, promossa dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, Bollini Rosa 2014, il Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, ha presentato il team di esperti dedicato ad affrontare con un approccio multidisciplinare questa patologia che colpisce soprattutto la popolazione femminile. La sclerosi multipla, per esempio, che è oggetto della riunione di oggi, è chiaramente una patologia che colpisce ambi i sessi, però negli ultimi decenni sembra abbastanza chiaro che la prevalenza sia nel sesso femminile, quindi l'interesse di queste manifestazioni è indirizzato ovviamente in tal senso. È una malattia importante che può dare alterazioni motori, disabilità, handicap e quindi tutta la nostra attenzione è ovviamente verso questi pazienti e noi attuiamo il nostro aiuto attraverso i nostri centri dedicati alla diagnosi e alla cura di pazienti con sclerosi multipla. Diciamo che la sclerosi multipla ha una sintomatologia estremamente complessa e i sintomi più comuni, soprattutto all'esordio, sono di tipo sensitivo, cioè noi non li vediamo, dobbiamo cavarli fuori parlando col paziente. Poi naturalmente abbiamo delle indagini strumentali che per fortuna suppliscono anche a queste difficoltà e ci aiutano a confermare l'impressione clinica. Oggi è la giornata dedicata alla sclerosi multipla che come è noto è una patologia che colpisce prevalentemente le donne e spesso anche donne in giovane età. Ma vorrei inquadrare questa giornata in un ambito più generale dicendo che in realtà si tratta di uno dei temi facente parte del programma Bollini Rosa, Salute Donna, che è curato da Onda Osservatore Nazionale sulla Salute della Donna. Il nostro policlinico è già arrivato alla seconda edizione avendo vinto il concorso nazionale per ospedali, avendo ottenuto il massimo del punteggio che consiste in tre Bollini Rosa, proprio per aver potuto dimostrare la propria sensibilità e la propria capacità organizzativa nel poter affrontare in modo pertinente questo tema che, ripeto, è un tema che è molto molto diffuso nella popolazione. Certamente l'indagine strumentaria diciamo che è il momento di conferma di una diagnosi clinica e per far questo abbiamo bisogno di diagnostica per immagini molto avanzata. Qui al policlinico Roberto Primo abbiamo una serie di sezioni di diagnostica per immagini estremamente avanzate. Pensate che noi, credo siamo uno dei pochissimi ospedali in Italia, avere risonanze magnetiche ad alto campo di tre Tesla che possono essere indicate per una diagnosi precisa di questo tipo di patologia. La sclerosi multipla è un argomento collaterale. Certamente l'immunologia è trasversale, quindi occupa un po' tutte le malattie, ma in particolare questa è una fonte di particolare preoccupazione in quanto essendo abbastanza rara in età pediatrica costituisce un punto di domanda spesso non risolto proprio perché di casi se ne vedono pochi. Per organizzare un percorso diagnostico-terapeutico ci vuole il team di specialisti. Noi, la prima cosa che facciamo quando abbiamo il sospetto di una diagnosi di sclerosi multipla incominciamo a vedere il bambino, gli facciamo delle serie di indagini che poi vedrete nella presentazione dalla risonanza magnetica, una serie di indagini fisiologiche, neurofisiologiche, andiamo a fare le lombari, dopodiché facciamo la diagnosi e lì inizia la collaborazione tra l'immunologo, il medico che deve fare la riabilitazione quando i bambini non stanno bene, ci vuole il dietista perché spesso i bambini hanno bisogno di seguire delle diete ben precise, ci vuole il neurologo pediatra dedicato ed è per questo che noi nel nostro team abbiamo individuato due o tre ragazzi che si occupano principalmente di questa patologia. Grazie.